Con il candidato a sindaco Massimo Laporta che ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale, candidato alle prossime amministrative del 12 giugno nella città di Agropoli. Dopo l'incontro avvenuto nella frazione Moio con il candidato Benedetto Infante, giovanissimo ragazzo, un altro incontro in una frazione della città di Agropoli via salvo d'acquisto con Marco Minopoli, un altro giovanissimo ragazzo per ascoltare le richieste soprattutto dei cittadini, le criticità ma anche per presentare il progetto Destinazione Agropoli. Allora possiamo tracciare un bilancio? Sì, sabato sera ci siamo incontrati con tutti i candidati della coalizione Massimo Laporta sindaco nel quartiere via salvo d'acquisto. Lì abbiamo avuto una presenza importante sia di cittadini che dei commercianti del quartiere. Con il candidato consigliere nella lista Agropoli oltre Marco Minopoli abbiamo avuto un confronto costruttivo con i cittadini e i commercianti. Da questo incontro sono emerse delle criticità che ci siamo presi l'impegno di risolvere perché sono dei problemi risolvibili. Il progetto Destinazione Agropoli che è il nostro programma politico-amministrativo le aveva già intraviste e monitorate perché l'esperienza della mia persona che è stata presente in amministrazione comunale aveva già riscontrato queste difficoltà. Oggi la mia persona da candidato sindaco si prende un impegno che è possibile risolvere. Il primo problema da risolvere che i cittadini ci hanno subito evidenziato è il parcheggio. In quell'area c'è un sovraffollamento di macchine che crea anche un rischio ai pedoni. Il problema noi lo risolviamo subito chiedendo alla provincia di Salerno che è proprietaria della struttura del centro impiego per il lavoro di darci quell'area che loro non utilizzano e la trasformiamo in un parcheggio che è adiacente proprio tra via Lazio e via Salvo d'Acquisto. Poi un altro problema che è stato sollevato è quello dei marciapiedi, un problema che si può risolvere immediatamente ed è quello del superamento delle barriere architettoniche. Non è possibile avere un salto per entrare nelle attività commerciali che va dai 40 ai 50 centimetri. Tanto questa problematica si può risolvere in un giro di 10-15 giorni. Un ulteriore problema è l'ingrocio innesto via Salvo d'Acquisto via Lazio. Questo ingrocio è pericolosissimo e va messo in sicurezza come dovrà essere messo in sicurezza l'intero percorso di via Salvo d'Acquisto perché abbiamo in particolar modo nella fascia oraria notturna macchine che arrivano a velocità non accettabili e lì vi è un'idea di frenare questa corsa delle macchine per garantire ai pedoni l'attraversamento in sicurezza. Si è parlato anche di un'area gioco nella località Salvo d'Acquisto, una richiesta che spesso è stata fatta dai cittadini non solo di quella zona ma anche da altre, però in particolare si parla di un progetto molto bello. Sì, nella piazzetta Gorg dove abbiamo anche la fontana e la statua andremo a togliere quella fontana che da anni non viene utilizzata e creeremo uno spazio dedicato ai bambini e alle persone che vogliono rimanere in tranquillità con anche una piccola tettoia che servirà anche per ricovero nel periodo invernale per le persone che aspetteranno la navetta. Sì, la navetta perché noi come coalizione La Porta porteremo avanti un servizio di trasporto urbano integrato e daremo a tutte le frazioni, a tutte le località della città l'opportunità di prendere ogni 10-15 minuti una navetta per raggiungere qualsiasi luogo che il cittadino voglia raggiungere.